Il senatore di Fratelli d'Italia, Salvo Pogliese, capogruppo nella Commissione Industria e coordinatore regionale del Partito per la Sicilia Orientale, afferma Non si può che accogliere positivamente la recente decisione del Consiglio dei Ministri di incrementare da 1,6 miliardi di euro ad oltre 3,2 miliardi l'entità delle risorse disponibili per il riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti realizzati nella ZES unica del mezzogiorno dal 1 gennaio 2024 fino al 15 novembre Questo stanziamento così importante è la cartina al tornasole dell'impegno del governo Meloni per il mezzogiorno Basti pensare che si tratta di uno stanziamento di 5 volte superiore a quello previsto negli anni dal 2016 al 2020 per il riconoscimento del credito d'imposta del Sud Si tratta quindi di un atto concreto che va nella direzione del sostegno agli investimenti e non, come contrariamente accadeva in passato, nella direzione dell'assistenzialismo fine a se stesso portato avanti da chi oggi dall'opposizione diffonde polemiche demagogiche senza aver mai investito per il Sud